Nomi importanti, quasi epici, uomini imponenti, regole di gioco tipicamente americane, sempre alla conquista di un territorio. Parliamo di football americano e lo facciamo in compagnia della squadra barese Patriots di Bari, che vanta un primato assoluto. Loro sono stati imbattuti finora, hanno un 28 a 0 ultimamente contro gli Achei di Crotone, quindi il primato nel loro girone. Benvenuti ragazzi, io sono con il vicepresidente Carlo Cacucci e l'allenatore Marcello Cassano. E nonché con la squadra, li conosciamo velocissimamente? Io sono Giuseppe, Gaetano, Paolo, Leonardo, Antonio, Luigi, Yetmir. Forse sarebbe stato il caso anche di dire un po' il ruolo, lei tenga il pallone. Marcello Running Back. Ok, allora, tanto per cominciare non è tutta la squadra, quanti siete? Siamo quasi 60. Come mai? Perché è uno sport che, a differenza di tanti altri, ha bisogno di particolari qualità fisiche e atletiche in ogni ruolo e quindi i ruoli sono differenziati e sono diversi. Quindi tra i titolari e i backup si arriva ad un roster totale di quasi 60 persone. Bene, com'è il vostro allenatore? È molto duro ma è uno dei migliori allenatori al momento al sud Italia. Complimenti. Se non gioca. Se non gioca. Allora, come nasce questa squadra? Allora, a Bari prima, fino all'anno scorso c'erano due realtà, i Wellbors e i Trax. Abbiamo deciso di unire le forze per offrire un prodotto migliore, quindi una squadra più forte, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista sportivo, che è quello che ci preme di più. Bene, noi nell'emisfero orientale siamo soliti a pensare che il football sia il calcio, invece no. Sì, viene confuso molto spesso sia con il calcio tradizionale che con il rugby. In realtà sono delle discipline completamente diverse, soprattutto con i cugini del rugby non c'è praticamente niente. Spieghiamo un po' le differenze. Sì, diciamo che a parte i pali della trasformazione, che nel rugby sono più o meno simili a quelli del football, per il resto proprio il gioco è completamente diverso. Nel rugby si gioca in 15, nel football americano si gioca in 11, anche la dimensione del pallone è completamente diversa, perché da noi è più piccolo, da loro è più grande. E oltretutto le regole sono praticamente, cioè completamente diverse anche loro, perché nel rugby la palla si può soltanto passare indietro o eventualmente calciare in avanti. Nel football americano la palla si può avanzare sia lanciandola, tramite il quarterback, che appunto lancia la palla ad un altro compagno di squadra chiamato ricevitore, oppure consegnare direttamente in mano ai running back, come il qui presente Marella, per poterla avanzare o portandola indietro e quindi eventualmente avanzandola in un secondo momento. Quindi è completamente diverso. Ora, facciamo una breve rassegna di quelli che sono appunto le divise, gli accessori utilizzati. Possiamo farlo con te? Sì. Allora, innanzitutto il pallone è un nome? No, si chiama pallone da football americano. Vabbè, molto spesso ci sono anche dei nomi specifici. No, no, in questo caso no. Allora, di che cosa avete bisogno? Allora, principalmente del casco, perché sarebbe proteggere la testa ovviamente. Perché? Dall'impatti violenti che si hanno contro gli avversari. Poi ci vuole un paraspalle, che in questo caso non abbiamo, perché era ingombrante, quindi non abbiamo deciso di non portarlo, che sarebbe proteggere la parte superiore del tronco. Che vi fa sembrare ancora più grossi. Sì, ovviamente. E poi ci sono delle protezioni per le gambe, che sono per le cosce e per le ginocchia. E questo è tutto, diciamo. Quindi non serve altro? No, no. Non serve altro. Siete abbastanza protetti? Sì, sì. Dovete fare delle richieste in particolare? No, 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 abbastanza protetti. Protezioni maggiori? No, siamo anche troppo protetti. Anche troppo protetti. Questo significa che sarebbe anche possibile usare questo tipo di, fare questo tipo di sport senza protezione? Ci sono dei regolamenti che impongono le protezioni obbligatorie, quindi non si può entrare in campo, gli arbitri controllano regolarmente la presenza delle protezioni complete su tutti i giocatori. Allora, altro motivo di vanto di noi baresi è che siamo fortissimi nello sport, vabbè diciamolo, è che la primissima partita di football americano in Italia è stata giocata proprio a Bari nel 44 contro militari statunitensi. Ora, se qualcuno dei nostri telespettatori volesse avvicinarsi a questo sport, quali sono le caratteristiche che deve avere? Beh, sicuramente è uno sport che prevedendo il contatto bisogna avere una natura un po' aggressiva, diciamo, di base. E poi però, diciamo che anche nella nostra squadra ci sono un po' tutte le tipologie di ragazzi, quindi da quello più grosso a quello più mingerlino, perché come ha detto il coach ci sono diversi ruoli, quindi basta adattare le caratteristiche dei ragazzi al ruolo che andranno a svolgere in campo. Io volevo capire perché, per esempio, tu hai scelto di fare questo sport? Beh, io ho scelto di fare questo sport perché innanzitutto sono portato per gli sport di gruppo, quindi tra di noi si forma sempre un certo legame che va ben oltre quello che si forma magari col calcio, che anche se di gruppo diventa molto individuale a volte, invece tra di noi ogni cosa esiste sempre in funzione del gioco o dell'altro. Bene, mi sembra una buona motivazione. Un motivo così per fare questo gioco? Sicuramente perché è lo sport più completo che esista, è uno sport di specializzazione che richiede tutto, atleticità, forza, intelligenza soprattutto. Quindi chi è stanco, diciamo, dei soliti sport che alla fine sono solo correre appresso a una palla di qualsiasi forma sia, può passare a qualcosa che richiede coinvolgimento anche mentale, davvero, da un punto di vista completo. C'è bisogno principalmente di intelligenza, poi di forza. Gli altri sono un po' più stupidi sostanzialmente. Va bene, quindi dicevamo, caratteristiche fisiche, intellettuali e poi età. Tanto allenamento, no, età anche lì non c'è una... Noi abbiamo ragazzi dai 16-17 anni fino ai 35-36, quindi anche lì abbracciamo diverse tipologie di età. Ovviamente poi, essendo uno sport molto fisico, più uno è allenato e meglio è. Quindi oltre all'allenamento tecnico sul campo sarebbe auspicabile un allenamento in palestra durante la settimana. Bene, allenatore, che gli facciamo mangiare a questa squadra? Beh, sicuramente la dieta deve essere una dieta comunque equilibrata, però molto proteica e anche abbastanza calorica, perché tra palestra e campo si... Quindi possono mangiare un po' tutto allora? Sì, però sempre... Tranne? No, non c'è un tranne, sempre con un particolare riguardo alla limitazione dei cibi grassi, tipo fritture, dolci e comunque tutto ciò che alla fine non serve per l'attività sportiva. Facciamo finta che nessuno di loro sgarri con l'alimentazione, vediamo che cibi mancano alla loro alimentazione, cos'è che ti manca di più mangiare da quando fai questo sport? Sicuramente i dolci, perché? Ma in realtà niente, forse i dolci sì. Lui è uno di quelli che mangia comunque perché è magro, anche lui mi sembra... Lei invece cosa è? No, mangiamo tutto, però facciamo tanto allenamento. Come ha detto l'allenatore, non serve solo l'allenamento sul campo, ma anche fuori dal campo. E dove sei? Io albanese. Ah, ecco, quindi abbiamo anche... qui non sono tutti di Bari. Per esempio tu sei... No, no, io sono di Bari. Sembrava più glasvigiano. Abbiamo giocatori comunitari, anche extracomunitari come lui, che sono qui per studiare e si sono avvicinati a questo sport. E noi siamo molto contenti di accogliere nella nostra grande famiglia persone che sono accomunate semplicemente dalla passione per uno sport e non da diversità etniche o sociali. Assolutamente. Un'altra cosa da sottolineare di questa bellissima squadra è che loro in qualche modo resistono grazie ad un autofinanziamento. Sì, purtroppo al sud non c'è molto spazio per gli sport minori, quindi è difficile reperire fondi, sponsor e quant'altro. Quindi i ragazzi per praticare questa passione si autotassano e si riesce così a portare avanti un impegno in un campionato importante come quello della Serie B che noi facciamo. Anche se con qualche difficoltà, però la cosa importante è che i ragazzi lo fanno con il cuore, quindi non si vedono situazioni che sono tipiche e caratteristiche di altri sport dove al minimo infortunio uno sta in panchina, dice no non vengo a giocare. Cioè i ragazzi pagano per giocare, è una cosa assurda in uno sport comunque semiprofessionistico, però purtroppo non abbiamo altre possibilità. Ce l'avete uno slogan? Una cosa che dite prima di iniziare una partita? Beh ci carichiamo chiedendoci... Non diciamo parolaccio, siamo sempre in televisione. Allora non posso... Lo sapevo, ecco per fortuna ho anticipato. Vice Presidente, cosa chiediamo? Allora noi chiediamo semplicemente di una maggiore attenzione un po' da parte di tutti. Infatti io invito chiunque voglia entrare in contatto con il mondo dei Patriots Bari a scriverci a infochiocciolapatriotsbari.it o a venirci a trovare sulla pagina fan di Facebook Patriots Bari e potranno avere tutte le informazioni, curiosità o anche magari qualche sponsor che voglia darci una mano. Anche perché insomma non è che ci si allena tanto poi, no? Beh no, non è vero, ci si allena tantissimo. Per esempio? Cinque volte a settimana. Quante ore? Da un minimo di due, a volte anche tre. Location? Il campo dell'allenamento è a Iapigia, il centro sportivo La Montagnola. L'indirizzo non me lo chiede. Vabbè d'estate invece per esempio, quando arriva la bella stagione avete la possibilità? No, finita la stagione si sta praticamente due mesi completamente a riposo. E lì che cosa succede? Eh, guai, perché poi li devi rimettere in forma.